Riccardo Cavarzan, amministratore unico della società Supermarine, importatore per l'Italia, Spagna e Svizzera del marchio Skipper. È un marchio di gommoni prodotto in Grecia. Abbiamo scelto questa collaborazione in quanto è un marchio con delle caratteristiche uniche di cui la prima in assoluto le performance. Oggi hanno in gamma tre prodotti, un 34 NC natante, un 38 NC da 11 metri e mezzo e questo dove siamo ora che è un 42 piedi NC da 13 metri e mezzo. Questi sono i tre prodotti su cui noi contiamo di ottenere grandi risultati in quanto per il cliente che cerca una caratteristica di performance di tenuta di mare e velocità sull'acqua unica nel suo genere. È un unico gommone ad avere quattro step sulla propria carena. È motorizzato solo Mercury e partiamo con delle velocità di punta a partire dai 60 nodi fino ad arrivare con la motorizzazione top di gamma sul 42 di 95 nodi. Quindi prestazione unica per delle unità da di porto. Noi crediamo che il mercato Italia, il mercato spagnolo e anche quello svizzero hanno delle particolarità in cui ci sono delle clientele che sicuramente apprezzeranno questo prodotto in quanto questo cliente è un cliente che vuole distinguersi dagli altri brand oggi sul mercato, più tradizionali se vogliamo. È un brand in cui le qualità di costruzione possono essere in vetro resina con tecnologia infusione oppure addirittura si possono avere degli scaffi con materiali in fibra di carbonio per avere un prodotto più alleggerito. Il livello di personalizzazione è altissimo dalle tapezzerie ai calpestì e ai vari optional di bordo. Collaborazione importante oltre a Mercury sono col marchio JL per l'impianto audio e Raymarine per quanto riguarda l'impianto multimediale. Quindi solo prodotti di ottima qualità per un prodotto premium come questo.